Ecco qui 5 lezioni di marketing che si possono trarre dal pallone d'oro. La reputazione conta, il pallone d'oro è il premio più prestigioso nel mondo del calcio, e la sua reputazione è costruita su una lunga storia di vincitori eccezionali. Nel marketing, la reputazione è essenziale. Costruire una reputazione positiva richiede tempo e impegno costante nel fornire prodotti e servizi di alta qualità. La visibilità è importante, il pallone d'oro è presentato ogni anno in un evento mondiale trasmesso in diretta televisiva in tutto il mondo. Nel marketing, la visibilità è importante per raggiungere il pubblico. È importante investire in pubblicità, sponsorizzazioni e iniziative di marketing per aumentare la consapevolezza del tuo marchio e raggiungere il tuo pubblico target. L'innovazione può fare la differenza, il pallone d'oro ha visto molte innovazioni nel corso degli anni. come l'introduzione della votazione online. Nel marketing, l'innovazione può fare la differenza per distinguersi dalla concorrenza e attrarre nuovi clienti. Sii creativo nella tua strategia di marketing e cerca di offrire soluzioni innovative ai problemi dei tuoi clienti. La coerenza è la chiave, il pallone d'oro è stato presentato ogni anno dal 1956, e non ha mai saltato un anno. Nel marketing, la coerenza è essenziale per costruire e mantenere la fedeltà dei clienti. Assicurati di mantenere una presenza costante sui canali di marketing, di fornire prodotti e servizi di alta qualità e di mantenere sempre la tua promessa di valore. L'eccellenza richiede impegno, vincere il pallone d'oro richiede un impegno costante per l'eccellenza sul campo. Nel marketing, l'eccellenza richiede un impegno costante per migliorare la qualità dei tuoi prodotti e servizi, per comprendere le esigenze dei tuoi clienti e per offrire un'esperienza eccezionale. Non accontentarti mai del minimo sforzo e lavora sempre per migliorare.